La serata limite dei pesi Welter sono agli angoli Francesco Picca all'angolo rosso, società in BQ Contro Samuel Gavuano ad angolo blu, di Boxer 1 L'incontro è previsto sulla distanza delle tre riprese da tre minuti Arminare, signor Conti E' la prima libertà E' il posto del dopo Camerano E' vicino il lavoro, si chiude, lo siamo a me E' il diserpe al sinistro, alzano a tutti Doppiano la cassa del bambino E' il posto, il che è vero, lo stanno E' il posto, dai 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 e dai E' il posto, dai e dai e dai e dai, vai, vai e dai e dai e dai, dai e dai e dai e dai e dai e dai ai punti, ai punti, ai e dai, e dai e dai, e dai e dai, e dai